Best Social Company, categoria Gold, il premio è andato a Sanofi, Matteo Bertone ci racconta qual è la strategia che ha messo in atto Sanofi sui propri canali social nell'ultimo anno? Allora è una strategia che noi portiamo avanti già da qualche anno, è una strategia diversificata, integrata nel senso che sui nostri canali raccontiamo un po' tutte le campagne dell'azienda, la campagna di business e le campagne più trasversali, diciamo che il nostro obiettivo principale è quello di raccontare attraverso i nostri canali i valori dell'azienda, quindi questo è quello che ci importa di più, raccontare quali sono i valori di Sanofi, i principi in cui Sanofi crede e cercare di farlo in un modo innovativo per cercare di raggiungere gli utenti social, che è sempre più difficile interessare e ingaggiare, soprattutto per un'azienda del farma, oggi ormai con i nuovi canali come TikTok ad esempio, che insomma trainano un po' tutto l'ecosistema social, bisogna cercare di andare anche un po' incontro a quelli che sono gli interessi degli utenti, trovare il modo di ingaggiarli e non essere autocelebrativi, raccontare qualcosa che davvero possa interessare chi ci segue, le nostre community, gli utenti che seguono le nostre campagne e i nostri contenuti. Ecco per il secondo anno consecutivo sul podio per questa categoria che cosa rappresenta per voi questo riconoscimento? È un riconoscimento molto importante perché comunque il mondo dei social ormai è un mondo che fa parte di tutti noi, non è un mondo a parte, quando noi creiamo una campagna, facciamo un'iniziativa, tipicamente i colleghi vogliono che questo sia anche valorizzato sui nostri canali, ma come dicevo prima non è semplice, quindi il riconoscimento rispetto a come noi lavoriamo sui nostri canali è davvero un riconoscimento importante per l'azienda, significa che stiamo andando nella giusta direzione nonostante quello dei social sia un mondo che cambia direi quasi quotidianamente ormai, e quindi bisogna stargli dietro, bisogna correre insieme a questi cambiamenti, e il fatto che ci sia stato riconosciuto questo premio significa che in qualche modo siamo riusciti davvero a raccontare Sanofi sui nostri canali.